Ciao a tutti, sono Marta Pagnini, sono l'ex capitano della squadra nazionale di ginnastica ritmica. Alessia Maurelli, sono nuovo capitano della squadra nazionale di ginnastica ritmica. Cosa significa la parola squadra? La parola squadra per me significa unione. Quando entri a far parte di una squadra, devi cambiare il tuo stile di vita. Inizi una nuova avventura, inizi un nuovo modo di pensare, non solo a te stessa, ma a un gruppo. Un gruppo che diventa te e tu diventi il gruppo, quindi si forma una coesione incredibile che solo provandola si può veramente comprendere fino in fondo. Per me la parola squadra significa famiglia. Famiglia perché io ho trovato nella squadra un punto di forza. Le mie compagne sono diventate come sorelle e stare in pedana con loro significa veramente creare una storia. Una storia che viene raccontata dai nostri esercizi, dai capolavori costruiti da Emanuela Maccarani. La squadra mi ha dato tanto e io spero di aver dato tanto alla squadra, ma penso che ho ancora qualcosina da dare. Ho deciso di intraprendere questo nuovo quadriennio, sapendo di poter trasmettere alle mie compagne la mia esperienza. Cosa rappresenta per te la ginnastica ritmica? La ginnastica ritmica è stata la mia maestra, è stato il mio amore, il mio odio, è stata quella che mi ha fatto sorridere e mi ha fatto piangere. È stata la mia vita fino ad oggi e sicuramente continuerà ad esserlo. È davvero, davvero, davvero una grande maestra di vita e l'insegnamento che ti può dare uno sport come la ginnastica ritmica è raro da trovare. Mi sento veramente privilegiata ad aver vissuto in questo mondo. Per me la ginnastica ritmica è il mio modo migliore per esprimermi. Quando sono in pedana sono veramente me stessa. La Alessia ginnasta è la Alessia migliore, perché sulla pedana, attraverso i miei movimenti, attraverso i movimenti insieme alle mie compagne, riesco a parlare. La ginnastica sicuramente si può considerare un'arte, perché non è un semplice sport di tattica o magari c'è uno schema, no. Nella ginnastica devi creare te quella storia, quella composizione, quell'armonia attraverso i tuoi movimenti, per far sì che qualcosa riesca ad arrivare a chi ti sta guardando. Cosa ti ha insegnato la ginnastica ritmica? Questa disciplina mi ha insegnato a non mollare, mi ha insegnato a rialzarmi, ma soprattutto mi ha insegnato a credere. Credere fino in fondo in quelli che sono i miei sogni, i miei desideri, credere fino in fondo in quelli che sono le mie potenzialità e anche i miei difetti, che potevano diventare delle bellissime potenzialità. La ginnastica ritmica è stata la mia maestra di vita. Penso che ogni ginnasta instauri con questo sport un rapporto di amore e odio, perché ci fa ridere, ci fa piangere, ci dà delle soddisfazioni, ma ci dà anche delle grandi delusioni. Però l'insegnamento che ti dà, quello che ti porti dentro poi per tutta la vita, è qualcosa di molto prezioso. Io mi sento davvero privilegiata ad essere vissuta in questo mondo. La ginnastica ritmica mi ha insegnato sicuramente il senso del dovere, ad essere più responsabile, a cambiare, ad essere me stessa, ma me stessa in funzione di una squadra, delle mie compagne, perché anche se ci sono dei giorni che magari non vanno, devo comunque cercare di rapportarmi con le mie compagne in modo da far andare avanti il lavoro, perché io dipendo da loro e loro dipendono da me. Quindi questo senso del dovere mi ha sicuramente forgiato il carattere. Io grazie alla ginnastica posso considerarmi una donna, io sono diventata donna grazie a questo sport. Cosa significa essere il capitano della squadra nazionale di ginnastica ritmica? Essere il capitano della squadra è stato un grandissimo onore. È un onore ed è anche una grande responsabilità però. Una responsabilità che ho cercato di portare sulle spalle con grande orgoglio. Ho cercato di essere un punto di riferimento, un punto di appoggio per le mie compagne. Un capitano deve saper sostenere la sua squadra e deve anche saper farsi sostenere dalle compagne, che è una cosa ancora più difficile. Bisogna insegnare alle compagne a volare, ma bisogna anche lasciarle volare da sole. Questa è una cosa molto bella che ricorderò per tutta la vita. Essere il capitano della nazionale di ginnastica ritmica è sicuramente un grandissimo onore, ma anche una responsabilità. Io spero di essere per le mie compagne un esempio da emulare, sia all'interno della palestra, ma anche fuori. Perché noi viviamo insieme 11 mesi all'anno e quindi spero che vedano in me un po' il loro punto di riferimento a cui affidarsi per ogni problema. Io poi ovviamente spero anche di trasmettere quell'entusiasmo che mi appartiene mentre sono in pedana e anche durante gli allenamenti, che secondo me è necessario per far sì che il lavoro vada avanti con serenità, con armonia. E questo sicuramente si riflette anche in pedana durante la gara. Di qualcosa ad Alessia? Alessia è una ragazza solare, è una ragazza molto carismatica, trascinatrice, sicuramente un grande leader. Io veramente le auguro ogni bene perché ha il carisma, ha la positività, ha l'entusiasmo di chi deve trascinare una squadra e un gruppo di ragazze che, alcune molto inesperte, si affacciano a un campo internazionale molto, molto arduo. Quindi Alessia sicuramente ha le carte di regola per farlo. Di qualcosa a Marta? Marta è una ragazza veramente d'oro, nel vero senso della parola. Sia come ginnasta ma come persona, lei mi ha dato veramente tanto e io sono veramente onorata di averla conosciuta perché è stata come un faro per me. Io quando sono arrivata avevo solamente 17 anni e ho visto subito in lei il mio punto di riferimento al quale attingere e nel quale anche prendere spunto. Lei mi ha aiutato in diverse situazioni. Lei è un po' così, gli piace essere altruista, a volte fin troppo, infatti spesso la rimproveravo per questo. Però lei è così e penso che sia veramente una persona fantastica. Ale, sai già tutto, però quello che ti voglio ricordare è non mollare, non ti abbattere. Io ci sarò sempre, sarò sempre il tuo capitano personale quando avrai bisogno e quindi non mi resta che dirti buon lavoro capitano. Marta, io ti auguro tutto il successo possibile per il tuo futuro perché sei una ragazza fantastica e te lo meriti. Ti auguro di vederti presto all'altare, magari anche con dei figli, una bella famiglia e magari anche spero che questa passione per la ginnastica ti porti ancora a continuare a seguirci. Buon lavoro capitano!